Le donne hanno cambiato la loro percezione grazie a due parole più di qualunque altra battaglia cioè due parole hanno rivoluzionato il rapporto delle donne con loro stesse senza dubbio la prima è Milf che prima quando le chiamavi vecchio puttanone si offendevano ragazzi cioè adesso girano coi braccialetti cioè come vecchio puttanone nel braccialetto non ci entra però comunque adesso sono proprio che le vedi che sono casatissima io sono una Milf brava complimenti mi piace questo tuo approccio positivo no è proprio bella sta cosa l'altra secondo me che è proprio una parola completamente che cioè descrive una cosa che c'è da sempre che è squilting cioè squilting vuol dire eiaculazione vaginale quindi c'è da sempre solo che prima non ce la cagavamo cioè prima cercavi eiaculazione vaginale dovevi trovare 150.000 cazzi prima di arrivare all'obiettivo invece adesso squilting categoria di you porn indicizzabile guardi i video bellissimi li voglio fare pure io e ti lanci ragazzi si lanciano e le ragazze dicono guarda ci vuole tanto impegno ti devi mettere lì ti applichi e vediamo che succede in realtà cioè sono belli i video i ragazzi hanno questa cosa perché sono proprio belli cioè ci sono sti giochi d'acqua belli che io non so voi ma io penso sempre chissà se mettono la ceratina sotto nel materasso cioè io non lo sputtanerei un materasso a volte vado a troia a sto punto comunque a prescindere da questo tu lo vedi e dici bellissimo li voglio fare e ci provi e ragazzi ci provano io ammetto ci ho provato in tutti i modi ma in tutti i modi veramente pure con la mentos ragazzi non ce la fai quello non è un metodo cioè io devo dirvi la verità volevo ci siete arrivati adesso va bene grazie 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 grazie